e lo registriamo anche lui, ma come sei bello attenzione le unghie dei piedi perché te le schiaccia e se le lasci dentro nella transenna vediamo se scende giusto, senza piede, va bene risalire eccolo qua discesa, un po' più stretta, giro largo e facciamo i due tronchetti non vale, c'è il vecchietto Spampi che l'ha zigato eccolo lì, è uscito a zero finora, vediamo il ritorno dove si impiccano un pochino tutti e mi sa che da come è messo se non riesce a girarla, bravo lì bravo Sandro, bravo Sandro aiaiaiaiai, moto spenta, piede a terra vuol dire 5, 5 ragazzuolo aiaiaiaiai, è andata magra, è andata magra grazie bad Grazie a tutti.